Un convegno certamente di livello autorevole all'interno dell'Università Cattolica, però che vuole educare, non a caso lei è pedagogista e la coorganizzatrice di questo momento di confronto in vista anche della conclusione del sinodo minore. Sì, grazie. È stata una d'intesa con la professoressa Santerina. Abbiamo pensato che i pedagogisti e gli esperti dell'educazione dovevano far sentire la loro voce in questa cornice culturale che l'arcivescovo Monsignor Delpini ha avviato. Già da gennaio ci ha fornito una grande possibilità perché la multietnicità è stata posta al centro proprio delle iniziative, non soltanto pastorali ma iniziative educative. Da questo punto di vista direi che multietnicità ma soprattutto relazione e azione e impegno perché le persone che sentiremo che abbiamo coinvolto in questa iniziativa sono voci dirette sul campo, non soltanto migranti ma persone ormai pienamente integrate nel nostro contesto, su diversi piani, sul piano dell'arte, della formazione, sul piano dell'assistenza agli anziani, sul piano dell'educazione concreta, sul piano aziendale. Quindi sono realtà precise, fisionomie di umanità che noi definiamo plurale e singolare al tempo stesso e che sono presenti nella nostra comunità ambrosiana e quindi ne denotano anche la ricchezza.